Il gufo, quale miglior animale per esprimere la notte, la notte dove si scatena la vera essenza del merda, sigla! E niente, il progetto di questa serie sarà di fare la storia qua sul mio canale, mentre da Isense faremo PQP e ovviamente caricare la parte dei boss che incontriamo lungo la strada. Per cui adesso non perdiamo altro tempo e continuiamo con la nostra storia che ci porterà praticamente dai nostri tutor delle mosse, delle varie cagate. Quindi adesso ci dirigiamo alla sala dei guardiani. Noi avendo poi lo stesso guardiano, devo andare anche con lo stesso tutor. Sì, la stessa razza, diciamo. Ok, io faccio... Eh, il mio guardiano è negro. Sì, possiamo aiutarti. Ah, ma anche tu sei stregone. Sì, sì. Ah, lol. L'ho usato nella beta. Allora, iniziate dai stregoni. Provi se vi guardate appena che ho presunto l'energia di circa. Ok, quindi questa... Ah, da lei possiamo comprare gli oggetti. Quindi questo è un equipaggiamento a viola, già. Che per prenderci voglio nei marchi dell'avanguardia... E vabbè, puoi capire più in là come... Sì, vabbè, sono delle reputazioni. Sì, sì, esattamente. Vabbè, crogiolo e tutto. Potete fare alcune missioni di bacheca... Brandisci l'animo. ...che poi tu lo spoccherai. Per equipaggiare un'armatura... Vabbè, andiamo alla schermata Options. Ok, equipaggiiamo la nostra nuovissima armatura. Codice del fuoco. Perfetto. Armaiolo della torre può fornirti armi migliori. Ok, adesso andiamo dall'armaiolo. Che dovrebbe essere praticamente all'init dove siamo respawnati. Ok. Sopra. Che utilizzando il DLC che ci hanno fornito, inizio gioco ci devono dare delle armi bonus. E spero che siano gratis. Hm, ipoteticamente sì. Altrimenti... Eh, infatti, non avrebbe senso. Oh no. Ah, io prima sono andato... Aspetta. Allora, ci sono quattro tipi di armi diverse. Ah, infatti. Scegli un'arma... Ah, ne possiamo scegliere solo una? Sì, io ti inizio a dire che ho provato. Il fucile automatico è forte e anche il fucile impulsi è anche molto forte. Allora, in teoria... Allora, la differenza sta nella gittata perché il fucile impulsi è un po' più, diciamo, da cacciatori. Sì. Mentre il nostro... Ah, siccome ho visto che però il guardiano fa tanti attacchi ravvicinati perché però non lo possano sbloccare di una distanza, credo che sia utile utilizzare e iniziare con un'arma ravvicinata. E infatti ho preso quello. Tu quale hai presa? Il fucile automatico, il maresciallo. Ok. Perfetto. Ok, poi qua ci sono sintesi. Bene, di consulare un pacchetto spettro, costruttare uso singolo, ripristine instantaneamente la munizione della mia primaria. Ma è una cosa che appena si compra te la usa direttamente, è una cosa che si tiene? Cioè, nell'inventario. Da premistà, le opzioni, poi la metti direttamente. Ah, equipaggiamento. Abbiamo lo spettro. Ok, quindi solo lo spettro possiamo tenere, che si potrà modificare. Il veicolo. Il veicolo. Poi lo stemma e la nave che poi ti faccio vedere adesso quanto costano le navi. Sì vabbè immagino Ora dobbiamo andare al nostro uomo Praticamente dobbiamo andare a comprare il tonno Comunque il fucile è troppo figo Bello Andiamo a comprare il tonno? Il tonno? Al nostro uomo Il tonno al nostro uomo L'avevo letto Controlliamo lo stato della nostra nave La nicchiola Allora ok lì c'è l'indicatore di missione Ma hai visto la scivolata di code? No Cosa si fa? Certo Ah sì ok immaginalo Bellissima La politica della nuova monarchia non mi interessa Ok quella con questa tipa Il nostro uomo ma ormai che gnocca che sei Allora prendi Ok vabbè servire Dobbiamo riparare Le navi Ah vabbè dai costano poco Ah 2.000 2.400 Ah vabbè ma immagino che più quanti ne formermo tanti di quei punti Sì sì vabbè Deve arrivare quello 15 quindi Ah che la voglia attalice Perfetto Bene 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 Ora dobbiamo ritornare nel l'iter spazio Nel l'iter spazio Dobbiamo tornare nello spazio perché dobbiamo Vabbè vai Quindi bisogna utilizzare lo spettro e farela in orbita Sì Ok tu l'hai già fatto? Sì Nella pe... No io devo aspettare te Ok Fai se sei capo squadra Ah ok non sapevo Questo è gigino simpatico che lo spettro Ok andiamo in orbita Quindi porta anche te Sì sì tu essendo capo squadra porti in orbita a me Tutto Perfetto E parti da quanto si potrebbe fare Massimo dico Che contano anche il partito squadra Eh mi sembra massimo 3 4 aspetto controllo sulla custodia Non c'è Sono 12 ma penso massimo 4 Sì ok La nostra tappa sarà antica russia terra Quindi da dove abbiamo iniziato la prima missione immagino Sì esattamente dobbiamo ritornare dove abbiamo lasciato la nave Ok quindi dobbiamo andare lì per recuperare i pezzi Perfetto Lancio In 3, 2, 1 Let's go Adesso ci sarà un filmato tipo di 3 ore per raggiungere la terra Quindi ti consiglio di tagliare Vabbè Intanto siamo già a 6 minuti Non va bene Ah vabbè Non dura molto la missione Eh Perciò ti ho detto che la prima È rimasto così poco I caduti si stanno portando via tutto È una fortuna aver trovato questa nave Anche perché un guardiano senza nave non può fare molto per proteggere la città Ci serve un propulsore per lasciare la terra però E qui il cosmodromo è l'unico posto in cui potremo trovarne uno Abbiamo battuto i caduti una volta Possiamo rifarlo Hanno abbattuto la nave di un guardiano Se non l'hanno già vista i caduti Allora potremmo recuperarne alcune parti Ok siamo arrivati su terra Allora siamo arrivati su terra Sono la madre rossia Dicca 2S Allora dobbiamo Dirigerci verso Ok Eccolo il punto G Sì Adesso che i mostri sono ovunque resparnano a palla Eccolo che volevo Eccolo la generale dopo Ma andiamo adesso che ho bici Dove sei? Sono sopra Sono sopra e sto uccidendo mostri a casa Già stai partitando Sì sì Adesso Muori male 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 Sì Affanculo già cominciano a fare danni Non è normale Sì sì ci sto Ci sto C'è un'arma su terra Mi devi dare un attimo Di familiarizzare Ragazzi Poco fa c'è stata una disconnessione Quindi riprenderemo velocemente A tutto ciò che abbiamo fatto Fino a mo' Ok vai Allora riattivato l'obiettivo Dobbiamo ritornare Ah quella nave è lì Se quella nave è lì Dobbiamo attivare Il nostro GG No? Allora uccide 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 Attenzione è santo la sban Ok Allora Attivo Attivo proprio questo cosimo qui vicino Eh cos'è? Evoca lo spettro Sì dobbiamo stare qui praticamente Amplo dentro immagino Sì Dobbiamo analizzare la nave Annalizzare 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 Sì Posso recuperare le cose La c'è un mano Andiamo No Rimani vicino allo spettro Cos'è? Ormai eh Arrivano qualche mosso Oh E' vaffangulo Puro di nuovo Attenzione E' vaffangulo E' pang E' pang E' pang E' pang E' pang Già mi volevo spolera Non cazzo Quindi Una mappa dell'intera zona Molta calma Adesso Adesso chiamalo spettro Sì si chiamalo spettro Ora ti spiegarò un paio di cose Poi potremmo fare il salto verso altri lini Dobbiamo No Potremmo fare il salto verso altri lini Quindi dobbiamo andare in altri mare E' la nostra unica possibilità Ok Noi siamo qui Trova un propulsore a curvatura A curvatura Lo trovi sempre un propulsore a curvatura no? Sì tutti i giorni Io quando andasco di casa Mi chiedo al vicino Ascena un propulsore Sì eccola Teni in volta Andiamo un propulsore a curvatura Così è random Esci poi in mezzo alla strada Oh un propulsore a curvatura Eh 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 appunto a me ci dobbiamo narzare dove cazzo sta la gente no è morto è morto non dico qua, vuoi andare a marco ok ma il problema sarà io siccome un gioco dove si troppa non li vedo mai troppo lo sai però è raro che li facciamo sono delle scatole trasparente sono delle scatole bianche ma cadono da loro o li trovi in giro cioè cadono da loro cadono da loro oppure sono delle specie di casse ti ricordi tu hai giocato l'inizio l'inizio del gioco quando trovi tipo queste casse infatti giuramento vettorial cerco il propulsore ok è già nelle mani dei caduti siamo tornati dove praticamente all'inizio abbiamo preso la nave ah e guarda caso il propulsore è già nelle mani dei cattivoni vedo qua sta scritto rientro limitato in pratica siamo nella zona oscura qui si è schiatti schiatti ok quindi cerchiamo di fare i pro ah non usare la mossa con l1 aspetta cazzo ogni tanto mi si leva la connessione con la scheda d'attivazione attenzione qui è un po' difficile perché vabbè atta aia vabbè ma stiamo in l'uco eccolo si nelle pareti dove è? nelle pareti escono dalle pottute pareti effettivamente è così ma cazzo è quello il boss di prima è più incazzato l'arconte questo è uno dei boss principali praticamente no uno dei boss principali ma è un arconte quindi è un personaggio principale per te vabbè un rompicoione esattamente che mi avevo affettato mi devo rinimare aspetta aspetta no 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 ah si mi puoi rinimare è giusto però se aspetti 20 secondi ok vai 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 no no vabbè pensavo non mi guance il tasso volevo fare un attacco ravvicinato ma ok facciamo stile melee vai no 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 ecco 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 ma volevo provare cazzo eh quello vabbè mi si è già rigenerato lo scudo non sapevo facessi attacchi non sapevo facessi attacchi ravvicinati vabbè ma lo sappiamo sparano in testa metto il pieno 29 no se lo sparano in testa a me fa si vabbè sono i critici ma non cambia molto tra prendermi in te cazzo attento 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 ce l'hai la mossa con L1 usala L1? ok vaffanculo non lo so sei stato un pò male però vabbè ok ecco qua eh ma vaffanculo io non ho paura di da bastardo ok è morto vabbè c'è da un trofeo assassino di draghi perchè assassino di draghi non lo so spiegami perchè assassino di draghi oh vracca è un duro cuore per caduti e abbiamo anche un altro ah ok abbiamo sbloccato un polenzialmente almeno io l'ho spoccato ok fine missioni secondi rimanenti bla 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 ok missione completata ok ora dobbiamo ritornare a casa ok enti queste sono munizioni si queste sono munizioni le casse un poco più grandi bianche invece sono gli oggetti sono gli oggetti vedi ora facciamo il doppio salto ad esempio io faccio il doppio salto no io l'ho potenziato un tubo l'ho potenzionato la cittadella ok camminatore del vuoto ehm ricompense vedi che ce ne sta un'altra eh non so se è un coso segreto buo anche nella prima missione è successa la stessa cosa beh comunque ragazzi abbiamo finito la ehm chiamiamola si vabbè la prima missione ufficiale anche perchè quella è una missione di provoco il primo arconte il primo arconte che quindi è uno dei generali dei caduti possiamo così definirlo codice del fuoco 2 hm fuoco 2? a me è fuoco 4 lol sei uno sculato di merda vabbè fin quando non ti da una roba veramente rara non sarei mai sculato vabbè rara ancora credo che sarà molto dura prenderlo vabbè comunque detto questo dica ci vediamo al prossimo video siiii anche perchè siamo a 17 minuti di registrazione quindi penso che le missioni le faremo durante 15 minuti c'era un tempo in cui eravamo molto più potenti ma appartiene al passato fino a quando non si sveglierà sarò io la voce del viaggiatore le tue domande saranno senza fine guardiano in punto di morte il viaggiatore creò gli spettri per cercare chi è in grado di usare la sua luce come arma guardiani capaci di proteggerci e fare ciò che il viaggiatore non può cosa gli è successo? potrei parlarti della grande battaglia secoli fa di come il viaggiatore fu mutilato o potrei narrarti del potere dell'oscurità il suo antico nemico tante sono le storie raccontate per spaventare i bambini della città ora quelle storie sono solo un ricordo ma i bambini hanno comunque paura l'oscurità sta tornando questa volta non ce la faremo le sue armate ci circondano i caduti sono solo l'inizio cosa posso fare? devi combattere l'oscurità i guardiani lottano sulla terra e altrove unisciti a loro lo spettro ti guiderà confido che abbia scelto bene si ne sono sicuro siamo una squadra ora non ce ne sono sicuro non ce ne sono sicuro non ce ne sono sicuro però non ce è per 42 ragazzi allora dopo questo video toccante di tutte le cose che ha detto il nostro capitano ovvio lì presente dobbiamo sconfiggere l'oscurità ma davvero detto questo ragazzi noi ci vediamo come sempre ogni giorno la stessa ora a nuovo episodio di Destiny ringrazio Isense per la compagnia che ci accompagnerà fino alla fine di questa trama sì che sarà spero una trama molto 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 ben fatta spero sia molto ben fatta e ci vediamo in un prossimo episodio sempre sul canale del caro Cufetto appunto quindi fateci sapere cosa ne pensate di questo primo episodio io mentre c'era il video parlavo con Isense dicendo che di come è strutturata la trama secondo me il multiplayer non c'entrava per un cazzo fateci sapere con i vostri commenti e con i vostri pensieri cosa ne pensate di questo quindi ragazzi basta stiamo dilungando troppo ciao ciao belli